ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o princapi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo il farmaco veterinario al falben a cosa serve al falben a un medicinale veterinario a base del principio attivo al ben d'azzolo appartenente alla categoria degli antielmintici e nello specifico benzimidazoli e sostanze correlate è commercializzato in italia dall'azienda ph farmaceutici srl al falben può essere prescritto con ricetta rn rvd ricetta non ripetibile veterinaria di lgs 218 2023 informazioni commerciali sulla prescrizione titolare alfavet concessionario ph farmaceutici srl ricetta rn rvd ricetta non ripetibile veterinaria di lgs 218 2023 principio attivo al ben d'azzolo gruppo terapeutico antielmintici forma farmaceutica sospensione confezioni al falben 100 mg barra ml sospensione orale per bovini e ovini 1 litro principio attivo al ben d'azzolo 100 mg barra ml indicazioni per il trattamento delle infestazioni da nematodi gastrointestinali strongili tenia e trematodi adulti negli ovini e bovini quando il parassita sensibile l'alben d'azzolo posologia somministrazione orale bovini per il trattamento delle infezioni provocate da nematodi gastrointestinali strongili e tenia 7,5 mg di alben d'azzolo per kg di peso corporeo 7,5 ml di prodotto barra 100 kg di peso corporeo per il trattamento delle infezioni provocate da fasciola epatica e di croquellium dendriticum o in caso di ostertagiosi di tipo 2 10 mg di alben d'azzolo per kg di peso corporeo 10 ml di prodotto barra 100 kg di peso corporeo ovini per il trattamento delle infezioni provocate da nematodi gastrointestinali strongili e tenia 5 mg di alben d'azzolo per kg di peso corporeo 0,5 ml di prodotto barra 10 kg di peso corporeo per il trattamento delle infezioni provocate da fasciola epatica e di croquellium dendriticum 7,5 mg di alben d'azzolo per kg di peso corporeo 0,75 ml di prodotto barra 10 kg di peso corporeo avvertenze in molti paesi inclusi alcuni stati dell'unione europea ha stata segnalata una resistenza ai benzimidazzoli compreso l'alben d'azzolo per le specie tela dorsagia e moncus coperia e tricostrongilus che colpiscono piccoli ruminanti precauzioni speciali per l'impiego negli animali il dosaggio prescritto non deve provocare danni alla regione faringea soprattutto negli ovini tutti gli animali di un gruppo devono essere sottoposti al trattamento contemporaneamente tempi di sospensione bovini carni e visceri 14 giorni latte 5 giorni ovini carni e visceri 14 giorni uso non autorizzato in animali che producono latte per consumo umano fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato